Visto che oggi è stato il tuo esuaggio vero, perché magari è demorata qualche partita già decise, oggi invece si è stato chiamato come Giancarlo Carvani alle 14-15, è stato registrato questa partita a dare uno contro il tuo vero. Sì, sono stato molto contento alla fiducia di Carlo Carvani, lui è anche dei miei compagni di squadra con i soldi. Sono entrato, sì, a come prima azioni comunque non male di essere un po' emozionato, perché è stato il mio primo vero e soldi nel campionato. Però poi dopo queste due azioni sono meno contenti da mio agio, soldi non è fatto ancora niente, quindi vennerò ogni giorno nel campo, questo è sempre al massimo, sempre pronto in campo. Sono anche premiato oggi con il premio David Ancilio 14, e quindi sono molto felice. Comande?